Il drastico calo delle precipitazioni, in particolare nevose, nella nostra regione rispetto agli inverni passati, con un meno 50, con una riduzione del 20% della portata di acqua nelle sorgenti abruzzesi rispetto ai 5 anni precedenti, potrebbe portare ad una stagione estiva di severità idrica. Per questo motivo le società pubbliche della rete idrica, ACA e Ruzzoreti stanno studiando strategie per fronteggiare le emergenze. Ma nel Terramano sembrerebbe esserci la situazione migliore a livello regionale, con la Ruzzoreti che si prepara la prossima stagione estiva sulla scia di un percorso avviato in tre ambiti strategici, ricerca delle perdite, implementazione e innovazione delle reti e qualificazione del personale. La situazione per la provincia di Terramo è assolutamente sotto controllo, sicuramente siamo in una situazione di carattere nazionale particolarmente importante e oggettivamente le sorgenti hanno avuto una diminuzione del 20%, le precipitazioni sono sempre meno, sia piovose che nevose. Però devo dire che qui alla Ruzzoreti, nella provincia di Terramo, con gli investimenti fatti negli ultimi tre anni, la situazione, ripeto, è ampiamente sotto controllo per il momento. Inoltre, dando seguito all'indirizzo di soccorso idrico dell'Ersi e della regione Abruzzo, è stato avviato il potenziamento dell'impianto potabilizzatore dell'acqua di Montori Albomano, per allargare il servizio di distribuzione anche a Chieti e Pescara. Entro due anni diventerà il primo impianto idrico interprovinciale. La regione Abruzzo, infatti, ha destinato un fondo di 55 milioni di euro per potenziare l'impianto. Inoltre, il controllo della rete idrica per il contenimento delle perdite rimane una pratica primaria per combattere la carenza d'acqua. Noi abbiamo investito moltissimo sulla manutenzione delle reti, quindi oggi abbiamo una dispersione idrica molto molto al di sotto della media nazionale, che è del 47%, la nostra invece è intorno al 20%. Quindi già questo ha aiutato tantissimo. Abbiamo messo in campo una tecnologia satellitare per l'individuazione delle perdite sul territorio israeliana, che ha dato grandi risultati appunto. Abbiamo potenziato il potabilizzatore di Montorio Albomano, che dà un supporto molto importante nel momento in cui dovessero verificarsi delle situazioni climatiche particolarmente severe.